Salve a tutti amici di Crypto Jam, allora oggi volevo fare un'analisi di due minuti veloce veloce su Bitcoin avevamo già ripreso questo livello ieri, come vedete avevo disegnato questa linea obliqua che si incontrava con una resistenza orizzontale e formavano questo incrocio, infatti avevamo messo ieri una bella X qua per dire che questo era un punto molto importante e come vedete infatti il prezzo adesso sta rintracciando Allora, analisi veloce veloce, siamo in una zona di overbought, quindi siamo in una zona di massima vendita come è successo qua, come vedete, e questo cosa vuol dire? Che dobbiamo un attimo avere un cool off probabilmente quello che io vedo succedere è che dobbiamo rintracciare molto meglio su questa parte perché come vedete il prezzo è andato su e poi non ha avuto un ritraccio molto forte quindi molto probabile che potremo rintracciare qua questa è una chance, come vi ho già detto, una possibilità che all'interno di questo channel noi andiamo a rintracciare e poi continuiamo verso l'alto un'altra possibilità è che se in questi giorni riusciamo ad avere dei volumi un po' più alti su bitcoin abbiamo uno spike diretto verso il all time high, quindi questa zona qui quindi zona veloce veloce da tenere sotto controllo, sicuramente questa ok questa zona e questa zona qui che in questo momento è un incrocio molto importante fra un supporto orizzontale e questa linea, questo supporto diciamo inclinato a livello di MACD allora sul daily il MACD ha una bella apertura come vedete qua verso l'alto ed è quello che vogliamo vedere per una grande crescita a livello delle 4 ore invece come vedete avevamo avuto un incrocio a ribasso quindi sapete che quando il MACD incrocia verso il basso quindi la linea blu incrocia quella rossa verso il basso di solito ci abbiamo un cool off però come vedete qua non c'è stata grande una grande retracement del prezzo il prezzo è andato sideways e poi è andato su condizioni del mercato in generale allora 2 trilioni e 300 miliardi il market cap buono sopra siamo sui 100.000 sapete che dobbiamo rimanere sui 100.000 come vedete il numerino qua continua a salire 46.8 che è la fetta di mercato di bitcoin addirittura quella di ethereum è anche scesa quindi molti soldi da ethereum stanno andando dentro bitcoin e infatti come vedete ethereum distrutto meno 3% cardano meno 5% addirittura wow binance coin siamo sui 400 dollari assurdo xrp è sceso sotto l'1.1 quindi tutti questi soldi stanno andando dalle altcoin stanno andando dentro stanno andando dentro bitcoin e questo è il solito segnale che succede quando bitcoin c'è un run up quindi non è niente di di troppo spaventoso per le altcoin se avete le altcoin tenetele perché cosa succederà una volta che bitcoin avrà avuto il suo run e raggiungerà il livello che dovrà raggiungere molti di questi soldi scenderanno giù nell'allcoin quindi vedremo questo allcoin saltare su del 20, 30, 40, 50% quindi tenetele le vostre allcoin non vendetele non avviate paura se avete più soldi cercate di comprare il dip accumulate è un periodo di accumulo molto buono perché sapete che dopo questa discesa ci sarà una bella salita VeChain 0.10 addirittura Polygon 1.19 Bitcoin Cash lo stavo guardando adesso per un trade siamo in una zona, una resistenza, siamo su un supporto potrebbe essere un ottimo trade però è un momento in cui il mercato veramente dell'allcoin sta andando giù però questo potrebbe essere un ottimo trade diciamo e quindi volevo fare questo veloce veloce video giusto per farvi vedere un update di quello che sto guardando osservando io sul chart e quindi come vediamo qua anche alle 4 ore c'è stato un cool off del mercato prossima mossa penso di Bitcoin sia fare un piccolo retracement e poi continuare verso l'alto teniamo sotto d'occhio i volumi i volumi devono essere alti se i volumi cominciano ad alzarsi e a crescere sapete già che andremo a sfondare questa resistenza e quindi la prossima sarà su un 8% tra un 8% e un 9% che è il previous high come sapete questo qua questo è un punto molto importante quindi da questo punto potete aspettarvi un retracement un po' più grande forse tornare giù al 58% perché una volta questa linea obbligua viene rotta quando verrà rotta questa linea da supporto quindi diciamo se in questo caso è un supporto diventerà una resistenza scusate il contrario da resistenza che è diventerà un supporto quindi il prezzo andrà sopra la linea e come vedete ho individuato questo supporto grazie a questi due punti ecco qua vedete e ci abbiamo anche più di due ci abbiamo uno due tre e adesso quattro quattro punti quattro punti che mi danno infatti come vedete il prezzo all'inizio era sopra la linea rotta adesso siamo entracciati dentro rompiamo lì sopra e dobbiamo continuare a entracciare verso l'alto e questo è tutto per oggi farò un video un po' più lungo a fine giornata spiegando alcune cose anche sull'analisi fondamentale di bitcoin le ultime notizie e magari andiamo a guardare anche le altre all coin se avete le all coin in mente fatemi sapere andremo a guardare anche quelli più avanti voglio fare anche dei video sui nuovi progetti che stanno uscendo per chi vuole entrare ce n'è uno che si chiama non so chi non so se chi l'abbia ci sia entrato dentro dall'inizio si chiama card swap ok questo è un progetto che questo coin non era neanche in vendita bisognava minarlo se andate su card star per chi conosce non è questo card start staking questo è il launchpad di Ada Cardano quindi è dove aspettate che devo mettere la password questo è il launchpad di Ada Cardano quindi è dove vengono fatte le applicazioni lanciate le applicazioni le ICO sulla Cardano blockchain e loro avevano praticamente lanciato questo questo progetto che è uno swap tipo Sunday swap o pancake swap però per Cardano project quindi potevi swappare i coin e bastava minarlo bisognava solo minarlo e quindi era gratuito bisognava comprare i cards che era la moneta diciamo il coin che si usa questi cards che adesso sono scesi veramente tanto ma hanno un grande potenziale consiglio a tutti di comprarli perché l'ultima volta sono arrivati fino ai 70 ci hanno un 10 milioni di supply quindi sicuramente cresceranno molto e non so perché non si carica il sito e quando faccio il login da questo browser di solito mi da dei problemi vediamo perché non si carica perché siamo sulla chain sbagliata dovremmo essere sulla ethereum blockchain andiamo adesso ecco qua allora come vedete qua c'è la zona staking quindi se comprate cards potete farlo staking ok io ne ho un centinaio però ho fatto il LP liquidity provider con ethereum poi magari per chi vuole posso spiegare come si fa e poi ho messo la liquidità quindi io non ho perso i miei coni li ho solo usati come liquidità e adesso mi sta dando questi card swap io alcuni li ho già ritirati questi sono quelli nuovi che ci hanno un valore adesso di questi sono tutti i soldi che io non ho comprati sono tutte cose che mi sono state date dal mining che sto facendo sono 2000 dollari circa 2100 dollari al prezzo attuale e in più ne ho altri 50.000 circa asset come vedete c'è 11.000 dollari qua 800 tutti minati non ho pagato assolutamente niente per questi coin ho solo dato liquidità e mi sono stati dati e quindi voglio cominciare a farvi vedere come fare queste cose per avere anche coin gratuiti diciamo o entrare in questi progetti qua però voglio fare una sezione a parte perché saranno dei video un po' lunghi quindi voglio spezzettarli per annoiarvi questo è tutto da oggi tenete in mente questi livelli molto importante e ci vediamo alla prossima grazie a tutti